buongiorno benvenuti alla rassegna stampa di oggi lunedì 20 marzo la prima notazione che faccio va bene si sono al buio perché c'ho il sole però la prima notazione che faccio che facebook che ha milioni di ingegneri miliardi di ingegneri quando scrivo il testo per questa rassegna stampa non si può vedere il testo e al buio cioè se io faccio la rassegna stampa in diretta non è possibile vedere il testo vi rendete conto queste facebook miliardi e miliardi di spese dei ingegneri fate una piccola applicazione e cambiatela cosa è successo oggi le cose importanti che sono successe oggi secondo i giornali per quelle che mi interessano mai sono altre ma insomma partiamo da quelle più istituzionali la questione più istituzionale di oggi riguarda le nomine sono state fatte 37 nomine di persone che dovranno andare a comandare importanti imprese pubbliche l'eni l'ena l'enav film meccanica che oggi si chiama leonardo l'enel la cosa che mi sconvolge che i giornali delle prima repubblica avrebbero preso queste 37 nomine le avrebbero radiografate l'amico di chi il raccomandato di là chi comanda chi perde chi guadagna io non so se per sciatteria dei giornali o per nostra abitudine a tutto quanto ma queste 37 nomine sono tutte renziane sostanzialmente come nota già maria de francesco oggi sul giornale e come nota molto bene pezzo molto approfondito di andrea ducci sul corriere della sera ma non c'è dietro a queste nomine nulla di a parte l'origine bravi non bravi saranno utili insomma io su questa roba delle nomine ci sarebbe andato molto di più abbiamo lasciato ai politici arrabbiarsi che profumo sia un banchiere che si occupa di film meccanica ma non lo so io trovo con tempo queste erano le cose che meritavano un fondo un editoriale di un giornale che oggi se la fanno sotto così poca roba nei giornali nella critica di queste nomine sempre che sia da criticare forse sono le nomine più belle del mondo segnalo quindi giammaria de francesco e ducci tra i pochi che ne parlano sui quotidiani il sole 24 ore oggi è lunedì quindi un giorno un po stanco per il sole 24 ore perché il numero è precotto quindi in genere non si no non si parlano di nomine anche se avrebbe potuto fare un bel fondo gentili sulle nomine il suo punto di vista sulle nomine aspettiamo domani ma un pezzo lo fa bellissimo che è un pezzo alla sole 24 ore cioè andando a guardare i dati certo io l'avrei fatto ancora più liberista e cioè la flat tax l'unica che abbiamo in italia che quella l'acidolare secca sugli affitti sta funzionando alla grandissima introdotta nel 2011 mi sembra da Tremonti una delle poche cose buone fiscali che ha fatto Tremonti prima che diventasse un anti globalista un anti mercatista come dice lui la flat tax sugli immobili sta aumentando 1,7 milioni sono i proprietari che ce l'hanno che la utilizzano più 22% questi sono i dati del 2015 riferiti nella dichiarazione del 2016 per un gettito di 2,36 miliardi che vuol dire con un gettito superiore del 17% la sostanza è fate una tassa bassa e facile da applicare e tutti quanti la utilizzeranno soprattutto il sud e i redditi più alti la stanno utilizzando questo è il punto fondamentale che non vogliono capire i nostri economisti abbassate le tasse riducete le aliquote vedrete che sarà più facile che l'evasione si combatta per quella via il foglio di lunedì come il sole sempre un po' precotto oggi c'è la solita contraddizione del foglio di oggi da una parte voglio dire il pezzo di Cerasa del direttore contro tutti quanti i grillismi contro Grillo dice che non dall'altra parte il pezzo di Ferrara e allora tu capisci una contraddizione del foglio c'è il pezzo di Ferrara su Trump cioè da una parte criticano i grillini il che è cosa buona e giusta figuratevi un po' voi dall'altra criticano l'eletto con argomenti che sono argomenti da grillini perché quando Giuliano Ferrara critica Trump che lo definisce un impostore e un cafone sì c'è un sovra più di radical chicchismo che contraddistingue Ferrara ma soprattutto è quando dice andrebbe cacciato e presto e poi dice l'opposizione vasta e maggioritaria del paese quando è stato appena eletto da una maggioranza e Ferrara parla di opposizione vasta e maggioritaria nel paese e quando si dice insediato un gruppuzzo di mezzi dementi al governo quando Ferrara scrive queste cose utilizza strumenti grillini per criticare un signore che è stato eletto democraticamente in America contro i radical chic in cui il foglio ci aveva abituato quando era ancora un foglio sano a combattere oggi boh come dice François i soliti fighetti molto bello a questo punto invece veneziani che col suo fondo sul tempo dice una cosa molto semplice veneziani dice il populismo dicono si fondi sulla paura mi sembra però che al contrario sia sulla paura del populismo che si fondano tutti questi movimenti tradizionali contrari al populismo insomma non è male stavo leggendo qualcuno che diceva che l'altra questione che c'è un po' sui giornali riguarda l'accordo con la Libia perché oggi c'è un incontro importante il corsiere anticipa alcune delle richieste di elicotteri navi, bombole che servono alla Libia di Serrai per poter fare l'accordo con l'Italia per evitare che arrivino in Italia nuovi profughi per altri giornali invece è un po' più lontano questo accordo quello che è certo e c'è una colonnina mi sembra sul Corriere della Sera ma nessuno la nota invece questo è il vero grande titolo di oggi è che nei primi mesi del 2017 gli sbarchi sono aumentati in maniera esponenziale rispetto al 2016 al 2015 16.000 gli sbarchi avvenuti fino ad oggi 11.000 quelli avvenuti fino alla stessa data nel 2016 9.000 quelli del 2015 che vuol dire tra 9 e 16 quasi sono raddoppiati gli sbarchi e noi stiamo qua a fare gli alambicchi non capite che, non capiamo che, anzi secondo me voi lo capite che questa resta un'emergenza anche se facciamo finta che non lo sia è fantastico, oggi i giornali ricordano che le maestre è stato approvato il decreto legislativo della buona scuola per cui le maestre d'esilio dovranno avere la laurea e quindi passa una legge straordinaria in Italia per cui le maestre devono avere la laurea i ministri no io trovo incredibile l'uno e l'altro per me, chi se ne frega, ma che si obblighi il ministro senza laurea a laureare le proprie maestre mi viene abbastanza da ridere su Minzolini Ferrarella fa un fondo per fortuna che glielo mettono Fontana il direttore glielo mette lontano e in un fogliettone, non so, pagina 10, 12 il Corriere della Sera e risponde a Nordio che diceva ma che state a dire giornalisti e esperti giuridici non si può Minzolini non poteva chiedere la ricusazione del giudice perché vi ricorderete che in appello Minzolini viene condannato a due anni e sei mesi da un magistrato su tre che era un suo avversario politico in Parlamento e dice che non poteva ricusarlo ci sono delle criteri molto dice Nordio molto chiari, molto scritti per i quali si poteva ricusare oggi la lezione la fa Ferrarella che è un giornalista e non mi sembra ancora essere un magistrato che risponde a Nordio e dice che invece il giudice si poteva chiedere l'astensione del giudice se il giudice non si fosse astenuto si poteva ricusare insomma si fa a chi ce l'ha più lungo con Nordio ma devo dire che 3-2 preferisco decisamente Nordio perché Ferrarella ci fa il pezzo moralistico spiegandoci che noi applichiamo una giustizia secondo me di questo parlano anche Gomez che risponde al giornale di Sallusti e Sallusti che gli risponde sull'applicazione della legge Severino sul fatto che sia stata una legge ad personam secondo Sallusti secondo invece Gomez una legge giusta o sbagliata che sia ma che si deve applicare l'ultima cosa la trovo sul Gazzettino di Venezia Grande Nordio sempre comunque sul Gazzettino di Venezia in prima pagina è una storia incredibile di quelle che voi pensate possono accadere ma in realtà qui ne abbiamo la prova provata gli SMS solidari che furono fatti nel 2014 contro il a favore delle popolazioni colpite dal tornado sulla riviera del Brenta ci sono 211.000 euro bene, raccolti ma non sanno come spenderli non sanno come spenderli perché comune regione enti locali non sanno come spendere questi 211.000 euro ma voi vi rendete conto voi vi rendete conto che cos'è questo paese un paese morto morto non riusciamo neanche a spendere gli SMS solidari vabbè direi che per oggi è tutto noi ci vediamo domani con la solita rassegna stampa e vi ricordo che Matrix in onda mercoledì ciao 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 ciao